amici di motosport.com ciao a tutti siamo al consueto appuntamento del sabato è un sabato con il nostro canido antonio ghini e da quelle che sono le sensazioni sarà un sabato ribollente di curiosità e anticipazione tu mi vendi sempre prima prima di sapere mi metti sulla graticola mi piace questo modo di metterti pepe intanto ciao buon sabato ciao a tutti ragazzi eccoci che ragazze ragazze perché a torino l'altra sera abbiamo c'erano alcuni dei nostri seguaci dei nostri apostoli quelli che portano in giro la nostra voce le nostre idee e c'erano anche due ragazze cosa hai fatto a torino di interessante ho fatto beh una cosa bella stimolante d'altra parte ho imparato molto da te in questo perché era una tavola rotonda al museo dell'automobile su Ayrton Senna e la comunicazione e quindi ho spiegato come in un periodo in cui non esistevano i social e quindi la comunicazione era fatta in una maniera oggi potremmo dire arcaica lui sia stato talmente bravo da accompagnare la sua crescita spettacolare come pilota quella di una gestione della comunicazione e del suo ruolo di protagonista scomodo in certe circostanze in certi momenti soprattutto la sua difficoltà di relazione col presidente della federazione internazionale e quindi mi è sembrata una cosa molto bella c'era Ezio Zermiani con me c'era Bocafogli con me e c'era Carlo Cavicchi quindi abbiamo fatto una sorta di rimpatriata nel senso che parlavamo comunque di anni nei quali non solo eravamo più giovani ma in cui si viveva la Formula 1 in una maniera diversa quindi è stata una cosa bella mi sembra molto apprezzata anche dal pubblico infatti siamo andati avanti a oltranza non andavamo più via siamo andati oltre le otto di sera e nessuno se n'è andato quindi questo o erano educatissimi oppure erano interessati no perché sennò la sosta pipì avrebbe spinto qualcuno ad andare sicuramente via invece il tema evidentemente era particolarmente interessante sì certo perché la comunicazione è diventato la cosa sorprendente oggi che mentre prima eravamo tutti ricettivi della comunicazione oggi tutti sono attivi nella comunicazione quindi questo capovolgimento mentale perché prima uno ascoltava e poi se poteva rispondeva ma ci voleva una conversazione a due e oggi invece si mandano messaggi poi non si sa se sarà uno, mille o un milione che lo vedranno i tuoi messaggi però comunichi intanto comunichiamo una cosa Austin si avvicina Austin è sempre molto più vicina perché sabato prossimo saremo a discutere di altro e devo dire che questa sosta è stata lunga molto lunga, quasi un inverno abbiamo passato è stato un ottobre freddo quindi ce ne siamo stati quindi e allora cosa ci aspettiamo adesso da Austin? io direi l'ottimismo dichiarato della Red Bull dichiarato da Verstappen che crede che la macchina possa... ma un ottimismo sottolineo dichiarato perché da quello che ha detto Helmut Marko in un'intervista di questa settimana emerge qualcosa di molto inquietante a mio avviso per la squadra vale a dire la radice di tutti i mali è stata la scomparsa del suo creatore di Matesic che teneva tutto in pugno ci sono aziende che vivono del padrone tra virgolette fu dell'olivettia negli anni d'oro che purtroppo oggi l'Italia ha dimenticato ma eravamo dal punto di vista di tutto ciò che era la ricerca del nuovo, dell'introduzione dell'informatica era nelle mani sue, sparito lui e sparito qua succede in tanti casi, è successo, beh adesso non voglio citarne ma insomma ecco la sua perdita del controllo dell'azienda nel senso che poverino, morendo, è rimasto senza ha scatenato tutto quello che sappiamo che è inutile ricordare ma è stata proprio anche la storia lì di questa love story eccetera è stata uno strumento di malessere o piuttosto di ambizioni di tanti col fatto che la squadra, non voglio dire che sia disgregata ma certo ha perso tanti pezzi ma soprattutto questa posizione di Verstappen così sereno che parla, dobbiamo stare uniti eccetera eccetera sembra la posizione di uno che ha già deciso di andarsene non si sa quando ma io scommetterei che lui non starà fino al 28 quando dovrebbe scadergli il contratto e adesso cerca di fare il buon samaritano e di mettersi a tenere insieme le cose e portare a casa certamente il titolo di quest'anno e sarà una grande sfida e potrebbe essere molto bello un incontro, scontro, una rivincita un girone di ritorno con Lewis Hamilton l'anno prossimo perché da quello che... Aspetta, voglio farti un inciso perché parlando di Adrian Neway si è detto e abbiamo detto come le uscite di Adrian Neway siano state sempre catastrofiche ogni volta che lui ha cambiato casacca e parliamo di Williams piuttosto che di McLaren in altri tempi molti sostengono si vede che Adrian non è più parte diretta della squadra e cominciano i disastri però mi ha fatto molto piacere il riferimento che tu hai fatto a Matteshez perché proprio Adrian segnalato all'aeroporto di Bologna lunedì e quindi adesso ogni volta che appare in Italia mi sono arrivati dei messaggi da amici che me lo hanno segnalato e da una persona che lo ha incontrato qui in Italia ha ammesso il fatto che la sua voglia di andare via sarebbe nata proprio con la scomparsa di Dietrich Matteshez quindi che arrivi da due personaggi più o meno nello stesso momento la stessa segnalazione da un valore che poi va oltre al fatto che manca il genio all'interno della squadra mi sono inserito solo perché la sottolineatura dà valore a tutto quello che stavi dicendo assolutamente assolutamente soprattutto adesso prima città ecco se io che ho vissuto il periodo Ferrari straordinario di Montezemolo ma ho vissuto anche un anno e mezzo del periodo post Montezemolo le aziende diventano cioè le persone uno che fino a un certo giorno si comportava in un certo modo arriva il nuovo patron tra virgolette ed è un altro e non è più lo stesso e quindi proprio le persone sono come come si specchiano in quello ecco è l'effetto specchio cioè il leader tu ti specchi nel leader e prendi quello che il leader ti dà cambia il leader è un altro specchio e diventi un altro ecco questo questo è diventi un altro è bella questa immagine che dà poi la spiegazione dei repentini cambiamenti delle situazioni sì 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 ecco allora no invece noi dobbiamo pensare che da quello che dice e mi fa molto piacere che Vassor lo dica che e lo affermi e lo riaffermi che Hamilton non viene per fare le vacanze le vacanze romane le vacanze modenesi ma viene per vincere e lo vediamo com'è in gara è vero che ogni tanto dice ma lì Hamilton ha fatto babà però è uno che sa come si gestisce un mondiale non una gara o una qualifica un mondiale che si troverà una macchina che è da quel io credo che noi lo possiamo dire che questa macchina del 2025 sia di fatto l'eredità lasciata da Cardile perché è nata sotto l'ingegner Cardile per cui benissimo che va oltre la macchina di adesso e la macchina di adesso è una macchina che sta dimostrando di essere assolutamente competitiva infatti il famoso indice Lewis di cui parlo io adesso è sicuramente salito perché Lewis si rende conto che la Ferrari non fa dei passetti o dei passoni indietro cose che altri hanno fatto ma al contrario sale adesso vedremo i baffi mobili l'hai detto l'hai detto adesso vediamo ad Austin cosa succede vediamo i baffi se uno con i baffi magari non sta bene dice guarda quello lì era così bello c'è con i baffi adesso ci sarà la Ferrari con i baffi vediamo se hai baffi e come li muove se li muove bene perché se sbaglia magari quindi il prossimo anno se ci fosse questa rivincita Hamilton Verstappen sarebbe una cosa da mettergli a firma con il peperoncino dei giovani leoni della McLaren che sicuramente dopo che si sono fatti la bocca con le vittorie non rinunceranno facilmente con una Mercedes che bisognerà che a un certo punto venga fuori da questo labirinto in cui Cnosso non era nulla in confronto a dove è finita la Mercedes che una volta gli sembra aver trovato l'uscita oh sono uscito dal labirinto no pa gli arriva il Minotauro di nuovo allora una Mercedes che vedremo si suppone che sarà competitiva anche per augurare a Chimi Antonelli non di arrivare subito delle cose no di fare il suo primo anno per diventare quello che deve diventare e poi ci sono le ambizioni di tante di tanti la William sta lavorando per migliorare la Aston è obbligata a migliorare a parte che ho parlato prima di Cardile ma questo gardening quanto dura quando andrà lì tu hai idea? no è un mistero buffo ho letto su Autosprint che si sono lasciati male c'è un pezzo di Pino Allievi sull'ultimo numero e che quindi c'è un po' di tira in molla da parte della Ferrari nel non volerlo lasciare libero troppo presto evidentemente l'uscita non era poi programmata e l'amo è rimasto attaccato alla bocca perché se così fosse io cito fonte pubblicazione dell'amico Cordovani ma evidentemente c'è uno scenario che non è non è definito e non vorrei che sia una cosa che finisca per avvocati alla fine no mamma mia ecco l'abbiamo scritto basta con sto gardening lasciamo le persone libere è una cosa ridicola goffa ma anche umiliante che ci siano delle intelligenze che vengono spente adesso tu spegni l'intelligenza per un anno per sei mesi ma che cosa è questa roba va va non è questo il problema il problema i nove mesi l'anno erano stati definiti in un altro momento temporale che aveva senso in quella fase oggi praticamente fra la trattativa che è un team principal qualcuno è in grado di fare di un marchio su un altro e il tempo in cui si chiude l'accordo si definisce l'uscita e diventa attivo il gardening ecco c'è il rischio che passino più di due anni due anni sono un'era geologica nel mondo della formula 1 si con la formula 1 che progredisce così tanto poi vabbè dicevamo certamente Aston quindi dovrà dovrà darsi una mossa Racing Bull oddio Racing Bull è nella scia di Red Bull dal punto di vista del marasma anche se loro sono più strutturati però hanno hanno questa è come uno che va fuori in maglietta e c'è un nuvolone nero sulla testa piove non piove non è sereno ecco quindi comunque no ma c'è un aspetto interessante di Racing Bull Antonio che loro si mantengono sempre un anno indietro rispetto a certe scelte della Red Bull casa madre quindi stanno lavorando stanno portando avanti una macchina che avrà le sospensioni dell'RB19 l'invincibile hai capito temevo che facessero la R20 essendo un anno indietro prossimo anno con la RB20 quindi loro in realtà avranno l'imprimatur l'imprinting della macchina che ha stradominato in Formula 1 e secondo me quello non è un brutto segnale perché quella macchina funzionava quella andava quella andava e poi c'è la allora io devo dire ieri è uscita questa notizia interessante a mio avviso che è una notizia di Toyota e As poi vedremo quali sono i profili i perimetri ma non non credo che noi riusciremo veramente a capire tutto però se guardiamo i giapponesi allora abbiamo visto Honda esco poi boom è lì il motore eccetera e c'è Bridgestone allora la gara con Pirelli l'ha vinta Pirelli ma non credo che alla prossima gara Bridgestone sarà ancora disposta a perdere quindi farà di tutto con i mezzi che ha per combattere la Toyota WEC benissimo tutto quanto tradizione eccetera eccetera ma con questa mondiale rally mondiale rally ma con questo approccio orientale no allora di fatto un accordo con un team di Formula 1 ti permette di sapere tutto quello che succede in Formula 1 senza esserci però ti fai una una cultura e ti prepari delle basi che in un motorsport che sta progredendo in una maniera così vertiginosa diventano importantissime nel momento in cui tu decidessi un giorno di fare qualcos'altro non voglio dire che a Toyota torni o non torni in Formula 1 abbiamo visto che i grandi costruttori in Formula 1 finisce che fanno fatica fanno fatica perché sono dei pachidermi che devono correre come delle lepri e quindi c'è proprio una sorta di contrasto in questo la Mercedes è riuscita a uscirne isolando ma però 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 io trovo che tutto questo in un contesto in cui noi purtroppo stiamo vedendo come l'automobile stia passando sempre più verso l'Oriente la Cina primo produttore al mondo di automobili eccellenti perché questa è la cosa incredibile se facessero dice boh abbiamo abituato a dire le cose cinesi no oggi loro fanno automobili eccellenti a costi politici come vuoi di un'economia che viene comunque perché poi non dimentichiamoci che un grande paese un miliardo 200 milioni 300 milioni di persone ha una sua gestione interna del denaro e del valore del denaro dei cambi del costo della vita che permette di operare sui mercati di esportazione con una libertà che certamente non è la nostra e possiamo escludere che la Cina un giorno magari recuperando come simbolo Zhu Guanyi nel senso che lo ricordiamo tutti lui inginocchiato l'anno scorso al Gran Premio di Cina dopo le qualifiche mi pare dove era riuscito a passare il turno possa unire le ambizioni di immagine che devono comunque accompagnare alle ambizioni commerciali perché se tu fai una cosa magnifica commercialmente ma senza immagine poi a un certo punto ha un sapore un po' melenso ti può andare bene ma non è quindi io mi domando ma qui è un discorso che andrebbe molto lontano se di fronte a un'America che è ormai indifesa non indifesa indifesa cioè si difende no e ricordiamo anche le prossime elezioni americane lo confermeranno un'Europa senza strategia cioè un'Europa che delude perché perché è una specie di cortile ideologico quello dell'Europa dove tutti discutono per raggiungere degli obiettivi di paese dimenticando che dovremmo essere una nazione unica e non lo siamo non lo diventeremo per le questioni di lingua eccetera eccetera quindi dei compromessi chi come l'Oriente in generale adesso ho citato la Cina ma l'Oriente in generale è capace con un approccio confuciano con un distacco dalle cose con una pazienza che noi non abbiamo è capace di prepararsi al futuro beh a un certo punto può diventare ingombrantemente leader e quindi io mi domando se tutte queste mosse del Giappone non siano un modo per interpretare correttamente lo straordinario potenziale di comunicazione e di immagine che ha raggiunto la Formula 1 in questi ultimi anni quindi ti voglio fare una domanda in tutto questo ragionamento che non fa la minima piega il rapporto triangolato o triangolare scegli te qual è il valore più giusto con la Ferrari che rimane il fornitore della Power Unit quindi il motore nuovo 26 la tecnologia del 26 è chiaro che i signori Toyota non potranno mettere il naso e smontare il motore questo è evidente ed è chiaro però il fatto che ci sia un passaggio indiretto fra due colossi nei loro ambienti supercar e produzione della grande serie numero uno produttore al mondo è quanto meno strano vi posso dire una cosa vi posso dire una cosa il risorgimento della Ferrari negli anni 90 è venuto per la volontà dell'azienda ma per lo straordinario supporto tecnico di materiali di competenze ingegneristiche del gruppo Fiat a Napoli c'era non so se esiste ancora tutto questo centro tecnologico della Fiat che ci ha dato dal punto soprattutto dal punto di vista dei motori dei supporti straordinari posso aggiungere un aspetto se ti ricordi uscì siamo in campo giapponese uscì la Honda dalla Formula 1 e fece un accordo tecnologico con Montezemolo mi ricordo se non mi sbaglio oh ecco è arrivata Corvinetta è arrivata Corvinetta dall'Oriente Corvina guarda tu hai questo esibizionismo spinto per cui vuoi farti sorridi allora sorridi su fatti vedere fai vedere come sei cattiva però non stare lì su avanti Corvina attenzione che ti pecchi poi mi grafia subito poi esatto per finire il discorso riprenderlo anzi c'era una collaborazione mi sembra che era l'ingegner Lombardi che era andato in Giappone e la Honda mise a disposizione delle tecnologie alla Ferrari che cambiò un certo tipo di approccio che inizialmente era giri potenza massima raggiungere dei risultati che era al picco della prestazione mentre invece si è poi cambiati sulla durata sulla capacità di avere continuità di prestazione di risultato affidabilità correggimi se sbaglio ma dovrebbe più o meno coincidere anche come periodo e devo dire che questa tua visione che non lo dici non lo vorrei dire neanch'io però una Ferrari leader storicamente leader nella Formula 1 nel senso che anche quando non lo era faceva di tutto per tornare a esserlo e c'è sempre riuscita che non ha più un grande costruttore nella sua orbita è una Ferrari destinata nel tempo a perdere il passo dell'evoluzione tecnologica per cui se il mondo stellanti lo consideri una galassia totalmente separata anche se il presidente John Elkahn è lo stesso da una parte e dall'altra non lo so faccio fatica a capirlo al di là dei pacchetti azionari e delle varie faccio fatica a capirlo il fatto che ci sia questo sbilanciamento così evidente verso la parte francese ricordiamoci che quest'anno in Italia si faranno si stimano 300.000 macchine vuol dire quasi un milione di macchine in meno del nostro potenziale produttivo e questo è un segno che comunque al di là dell'aspetto produciamo qui o produciamo là l'influsso delle capacità ingegneristiche tecnologiche italiane il bacino di talenti che c'è stato qui per anni e anni si è spostato non so dove e come perché oggi è difficilissimo visto che si fanno le macchine con l'ego prendo quella piattaforma lì quel coso lì faccio lì un tutto ma non si sa più una delle ragioni per cui le macchine non hanno più l'anima è perché tu vai su a me è successo non cito la marca avevo un'automobile di un certo tipo pagata tantissimo di un di un marchio affitto in un aeroporto il modello della stessa categoria della marca meno nobile di quel gruppo era uguale cioè mi sono seduto mi sembrava di essere la mia ma poi il volante era meno raffinato le finiture erano allora in questa situazione è difficile capire quanto oggi Stellantis possa dare a Ferrari dei contributi del tipo di quelli che Ferrari ebbe in passato ma portati all'oggi perché l'oggi è quando De Meo parla del rinunciare al motore di Formula 1 dice delle cose sacrosante cioè dice non abbiamo i banchi prova giusti non abbiamo il discorso sulle batterie adeguati non abbiamo c'è tutto il mondo dell'intelligenza artificiale e comunque della possibilità di ottimizzare certi processi e questo lo possono fare solo i colossi per cui il fatto che l'AS possa diventare adesso qui stiamo andando cioè sto tu stanne fuori è scemo che va bene lo accetto ma il fatto che possa esserci la condizione la prospettiva l'ipotesi non è una strategia è una cosa che ti può arrivare sul piatto o che ci sia di avere un trade union che ti permette di accedere a certe cose senza esporti né tu né lui la troverai una cosa molto intelligente vediamo sarà una cosa da seguire molto interessante hai gettato un sasso nello stagno che farà discutere un bel po' caro Antonio questo questo è certamente forse perché noi abbiamo la fortuna del tempismo perché si è saputo ieri ne parliamo ne parliamo oggi quindi insomma non ma ma io ci metto ancora un altro aspetto di questa però Ferrari che sta perdendo la capacità geopolitica di avere il controllo sulla Formula 1 perché aveva la la Sauber motorizzata ce l'avrà ancora il prossimo anno certamente sì ma quella ormai è una squadra che a tutti gli effetti si chiama Audi quindi aspettare che Binotto a capo dell'Audi supporti politicamente la Ferrari di Vessor faccio fatica a pensarlo ecco se c'è un AS che da squadra cliente a tutti gli effetti a non dimentichiamocelo il centro di progettazione è all'interno di Maranello e nel cuore non a Maranello Paese è dentro la Ferrari quindi usano lo stesso simulatore usano la stessa galleria del vento quindi diciamo che l'interconnessione è molto pesante però se si pensa che appunto c'è un allargamento a oriente mettiamola così per mantenere il tuo legame di pensiero ecco vedo un indebolimento del sistema Ferrari nell'ambito delle dieci squadre impegnate in Formula 1 o nell'ambito dei costruttori motoristi che forniscono le power unit alla Formula 1 direi che sono due discorsi diversi vale a dire però rischiano di intercarsi come valore Ferrari è un ruolo simbolico queste automobili rosse che ci sono o sono qui o sono lì o sono davanti però sono in un certo senso è come se tu racconti quando uno legge un libro dovunque vada la storia c'è sempre un protagonista che segui la Formula 1 il protagonista della Formula 1 è la Ferrari se uno scrivesse la storia della Formula 1 potrebbe fare tutti gli episodi di questo di quell'altro ma la Ferrari c'è sempre stata per cui questa forza che le dà adesso poi dovremmo parlare non so forse oggi non lo so forse del patto del nuovo patto della Concordia che è lì che si capirà quello che tu stai dicendo ma non credo non penso non voglio immaginare che qualcuno possa credere che indebolendo la Ferrari possa trarre vantaggio perché ci hanno provato a togliergli i contenuti anche economici ma mi sembra che da questo punto di vista si rimanga in uno status quo sì ma soprattutto come dicevo prima se tu hai un romanzo magnifico e a un certo punto ti muore il protagonista nel senso che supponiamo che la Ferrari per una ragione o per l'altra venisse declassata o portata a scelte diverse non credo che le farà mai però sbagli ecco quindi questo no sui motori invece il discorso è differente è differente perché oggi con le complessità che abbiamo visto inclusa quella della scelta del carburante la scommessa sui motori del futuro almeno della della futura regolamentazione della Formula 1 perché poi io mi auguro che a un certo punto finisca quella lì e si torni con i motori endotermici e basta e così l'avremmo fatta finita con i pesi le batterie le cose i cavalli quello con i cavalli dell'altro ecco su questa su questa avventura di una Formula 1 così complicata dal punto di vista regolamentare sia sul piano vettura che sul piano motore ci sia un momento di di attesa e quindi oggi Ferrari sarà nello scenario motorista per se stessa e per ass quindi avrà teoricamente lo spazio per una nuova squadra per esempio la come si chiama più Andretti Global potrebbe arrivare Andretti Global con un motore Ferrari il ricordo Andretti che ha corso con la Ferrari ha vinto Gran Premio con la Ferrari Andretti Global anche se il povero Andretti inteso come persona io parlo Michael mi sembra che sia stato un po' castigato cioè è difficile credere quando uno comincia a dire adesso mi dedico alla famiglia al cane al giardinaggio alla pesca sportiva dice quelle cose lì perché c'è un magone qui che non sa dove metterlo e allora si inventa tutte queste cose ho la sensazione che il coraggioso tentativo di Michael vero Andretti di combattere sembra forse in certi momenti un po' maldestramente per arrivare alla Formula 1 dal momento che non è da solo ma c'è questa questa Andretti Global che ha dei soci metta piuttosto fuori lui che fuori l'Andretti Global cioè io non credo che voglia dire che è finito l'ipotesi Andretti in Formula 1 forse è finita l'era di una leadership sua che non è riuscita a concretizzarsi non so cosa tu pensi io penso che è il classico passo indietro per vedere poi che cosa succede perché è un Andretti che è impegnato in IndyCar in Formula E in IMSA piuttosto che in centomila cose non lo vedo che va a pescare con il papà ottoagenario quindi vediamo papà Mario attivissimo sempre figurati se Michael va virgolette in pensione quindi mi sembra una fase di passaggio per far calare l'antipatia che Andretti è riuscito a creare con certi atteggiamenti e probabilmente l'attesa è quella che arrivi il nuovo patto della Concordia che probabilmente aprirà la porta all'undicesimo vediamo questo è uno degli aspetti interessanti bisogna vedere a che prezzo aprirà questa porta perché ci sono delle ambizioni e dei valori che vengono dati adesso alle squadre che stanno diventando come ai massimi delle bolle speculative della borsa cioè ormai si parla di miliardi di cose oh calma ragazzi no sai cosa potrebbe essere una carta effettivamente a loro favore visto che oggi sto delirando quindi vado avanti che puntasse sul motore Ferrari e potesse avere quindi in un certo senso un supporto da questo marchio magico che essendo il protagonista dell'attore della Formula 1 richiama al passato ecco questo è un capitolo bello ricordiamo di Andretti Andretti torna col motore Ferrari così è facile però non ti dimenticare quell'accordo che hanno con General Motors che non è poca roba non è banale non è banale però Toyota da una parte General Motors dall'altra ma adesso facciamo troppo è vero che De Meo ha insegnato a cancellare la parola Renault come se fosse una parentesi nella sigla di una macchina preferendo Mercedes e lì aspettiamo io lì sospendo il giudizio e aspetto chi compra quella squadra se vogliamo parlare per concludere la nostra chiacchierata del caso del caso Alpine direi che abbiamo il momento giusto e cioè già dall'epoca Renault che io ho vissuta ma l'ho vissuta proprio nel cuore del te del problema la Renault in Formula 1 e la Renault commerciale non riuscivano a parlarsi cioè non siamo mai riusciti a portare in qualche modo il messaggio di un costruttore di Formula 1 sul prodotto di serie quindi l'idea di De Meo che è stata un'idea da quello che emerge dall'intervista che ha rilasciato all'equipe di aver salvato lui la Renault mantenendola in Formula 1 con la scelta di Alpine è amirevole nel senso che lui ha detto se devo starci come Renault il consiglio probabilmente non mi fa uscire allora la teniamo e la facciamo come Alpine il problema è che su Alpine manca il contrappeso vale a dire tu sei in Formula 1 qua con i motori Renault ovviamente perché Alpine è di Renault però hai un prodotto che si posiziona in una fascia difficile perché non è la supercar che vai al golf ti presenti wow quello lì guarda che macchina hai una bella macchina sportiva di quelle della passione degli anni degli anni d'oro quando uno si comprava la porscina o anche la 110 Alpine perché no ma per il suo piacere oggi l'automobile la supercar l'automobile importante di lusso è prima di tutto un'esibizione quindi l'Alpine ha un prodotto eccellente ma che è lì a metà è un po' come tra due strati tra le sportive accessibili e quelle inaccessibili e lì in mezzo ma non fa il mestiere né l'una né l'altra e i numeri da quello non ci sono ma insomma non sembrano essere per cui il problema cioè la decisione del PING è sicuramente giusta ma non supportata da un prodotto che fa il peso con la Formula 1 o anche col WEC quindi questo è una perché immaginiamo che tu ti trovassi a dover difendere la presenza se fossi De Meo devi difendere voler stare in Formula 1 questi argomenti sul tavolo ti arrivano allora non abbiamo i soldi per investire su una super Alpine per ora lo vedremo in futuro anche capire se dovrà essere elettrica o no e quindi e allora dall'altra parte ancora c'è questo ne abbiamo appena parlato questo tonfo dell'automobile europea che è drammatico sul piano dei costi e dei profitti delle aziende quindi la necessità di guardare dove ci sono dei soldi da salvare allora cosa fai? chiudi tutto? no perché avere una squadra di Formula 1 oggi è un asset se parlavamo prima dei valori lo stesso De Meo ha parlato di valori a mio avviso addirittura iperottimisti quindi lui dice me lo sono scritto o riusciamo a risalire o andiamo via non possiamo stare lì a metà quindi adesso ha bisogno pur risparmiando e che lì deve risparmiare sui motori di far vedere che sono lì perché la tragedia è che quando vai male poi non hai più neanche gli sponsor quindi non solo non hai più la gloria ma non hai neanche i soldi che ti può portare la gloria quindi tutto questo ti rende difficile allora è vero che è molto strano immaginare una squadra di un costruttore col motore di un altro costruttore perché il parallelo che si fa dice sì ma anche McLaren piuttosto che Aston Martin hanno motori che vengono Mercedes piuttosto che però sono costruttori specializzati per i quali c'è tutto un mito diverso un mito che è fatto globalmente dall'automobile oggi 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 il discorso delle tecnologie l'abbiamo visto investire in tecnologie è troppo oneroso oggi c'è un nuovo pubblico della Formula 1 questo pubblico che si sta abituando a vedere la Formula 1 questo è un discorso sul quale dovremmo tornare anche attraverso canali diversi perché c'è il drive to survive che abbiamo visto il successo che ha avuto ma il prossimo futuro futuro filmato su Senna sarà una sorta di storia fiction e ce ne saranno sempre di più che prenderanno come base questo mondo per portare in evidenza personaggi veri o non veri eccetera eccetera quello che dici è tutto vero ma alla fine la McLaren non ha mai fatto un motore l'Aston Martin non ha un motore e ha i motori Mercedes per tradizione l'anomalia è che va in onda quindi cambia quella quella logica ma sono sicuro che poi seguirà anche altro per quello che riguarda il il business del marchio la Renault non lo devo dire io a te mi sembra una bestemmia in questo caso cioè per quello che ha rappresentato gli ultimi motori non sono stati certo fantastici ma nella storia dal turbo a venire in avanti sì il mondiale è avvicinare quella storia e riuscire a mettere un trattino attaccando Mercedes per quanto si sia nel campo moderno eccetera io lo voglio vedere a campo lungo come funziona caro Antonio io credo ancora che il valore è poi di quello che un marchio rappresenta e quindi quello che poi succede nella casa lo andremo a discutere lo vedremo hai parlato di valore ecco allora se la formula 1 è cambiata in maniera importante dal punto di vista della visibilità ma tu giustamente la chiudi alla formula 1 aspetta lasciami finire l'Alpin sarà là avrà un motore se riescono a fare una squadra che arriva ai vertici non necessariamente campioni del mondo ma che sono là davanti questa squadra acquisirà valore a quel punto i 200 500 miliardo di oggi potranno diventare due due mezzo e con eleganza dopo x anni quello che oggi verrebbe abbandonato con un segno di sconfitta potrebbe diventare un'uscita interessante dal punto di vista economico e dignitosa dal punto di vista di quello che hai fatto per riportare il marchio a certi livelli per cui mettiti di fronte al tavolo il consiglio dell'amministrazione a illustrare una situazione tu cosa avresti detto dovete darmi tutti i soldi per fare il motore siamo capace a fare un motore degno della formula 1 tanti saluti grazie come se la formula 1 non dovesse avere una ricaduta sui marchi dei grandi prodotti di serie e allora quella ce l'andremo a rivedere perché Le Mans ci va a correre l'Alpine la formula 1 la fa l'Alpine i rally il ride lo fa la Dacia cioè il marchio Renault è scomparso dalla dimensione di quella Losanga che correva dappertutto e per 30 anni ha formato tutta la generazione dei piloti che sono arrivati in formula 1 fino a oggi questa è una censura profondissima profondissima secondo me questo è il sacrosanto nel senso che sparisce il marchio Renault però teniamo conto che il mercato dell'automobile è cambiato che può essere interessante puntare su uno dei marchi del tuo gruppo che si chiama Dacia per fare un posizionamento di un certo tipo su un altro per farne uno di un altro ma se è vero quello che stai dicendo allora ti dico già che la Ferrari andrà a creare a cercare il contatto costruttore con un mondo che può essere solo Tesla no non lo farà non lo farà ciao siamo arrivati a tutto 46 minuti la cosa no la cosa che mi rassicura è che se dovesse succedere io non ci sarò più siamo arrivati in fondo punto amici siamo arrivati davvero in fondo a questa lunga puntata piena di argomenti piena di occasioni di grande discussione iscrivetevi al nostro programma di youtube motosport.com e commentate qui sotto me li leggerò tutti i commenti questa volta sono proprio curioso grazie Antonio buon sabato ciao a tutti ci vediamo a Austin ragazzi grazie a tutti